Grazie a tutti. 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 Ed ecco Bruno Fallara che è ipercontento che viene. Insomma si sta inserendo in tutte le interviste. Va bene così. Bruno, fai qualche domanda dal cancello. E si deve abbandonare la pasta al forno. Bravo perché è arrivato dietro, è arrivato dietro, è arrivato dietro, è arrivato a pelo e è la prima volta che sale. Bravo, bravo, è stato buono. Complimento a tutti. Bene, allora Fabrizio, è arrivato a tutti. Quando di fianco hai Arcaggio, quando di fianco hai Arcaggio che è appena... che devo alzare che devo alzare che devo alzare che devo alzare il piede. No, no, non vale, non vale, non vale. E' come roba, è alzarlo lui, no io. No, no, dico a trarre così che ci divertiamo secondo me. Bene, due grandi amici, due grandi macchine divertenti e niente, allora vi aspettiamo a Gambari. Per il gruppo E2 premia Santo Morabido della Prologo Presidente e sale sul primo gradino del podio Arcangelo Madaferi. Ancora l'assessore per il gruppo E2 classe 2000, secondo classificato Fabrizio Fallanca premia Pietro Fallanca. Primo classificato Arcangelo Madaferi, scuderia Astromonte. Franco Arcuso premia...